Come previsto, la neve questa notte è scesa ad imbiancare gran parte della regione, una perturbazione che unita al brusco calo delle temperature ha imbiancato ambedue le province di Campobosso e Isernia. Le prime avvisaglie durante la notte, poi questa mattina è scesa copiosa, tanto da accumulare diversi centimetri e azionare la macchina operativa della SEA sul capoluogo. La municipalizzata del comune ha attivato infatti il livello 1 di allerta e da questa mattina alle 4 sono al lavoro i mezzi spargisale, dalle 7.30 anche lo spazzamento neve con 6 mezzi più 3 bobcat. Ingaggiato inoltre anche un mezzo privato dedicato esclusivamente alla tratta ospedaliera per garantire il regolare transito dei mezzi di soccorso. Per il centro storico è operativo un mezzo e 5 operatori per lo spargimento del sale e la rimozione della neve dalle scale e dagli accessi principali. I servizi coprono l'intera riteviaria cittadina dopo le principali arterie del centro e dei quartieri. Anche nelle contrade la circolazione risulta garantita specificato l'assessore alla mobilità del comune Simone Cretella. Tenuto conto dello scarso accumulo finora registrata e della consistenza della neve particolarmente acquosa, i marciapiedi risultano praticabili nel caso le condizioni dovessero peggiorare e se ne avvertirà l'esigenza, in particolar modo nella giornata di domani, ha aggiunto l'assessore, i dispositivi di secondo e terzo livello che prevedono l'impiego dei mezzi esterni sono già prealertati. Neve anche nell'entroterra, vento forte invece sulla costa e qualche timido fiocco. Scenario da cartolina in alto molise, montagne, tetti e strade ricoperti dalla coltre bianca che a Capracotta ha raggiunto 10 cm di altezza. Ma il record, considerando la stagione, lo fanno segnare le temperature, giù in picchiata fino a meno 9 gradi. La tradizione di uscire di casa per giocare a palle di neve non si è potuta rinnovare, tutti osservano la quarantena dovuta all'emergenza Covid-19. Tutte le strade sono praticabili, anche la statale 6,50 che collega il Molise all'Abruzzo e la statale 17 che collega i Serni a Campobasso. Grazie a tutti.